È un'app che in modo semplice fornisce dei dati in tempo reale su cosa sta accadendo nello spazio e ti permette quindi in un modo pratico e semplice di essere informato appunto in tempo reale senza bisogno di andare a cercare su internet informazioni che spesso non sono neanche diciamo comprensibili a tutti. Il progetto del futuro è portare avanti questo progetto con tutto questo team che si è ritrovato questo weekend e niente, speriamo di andare avanti, di ritrovarci in Florida al prossimo anno tutti insieme a festeggiare ancora e grazie per tutto quanto, è stata un'esperienza bellissima. Due, tre, look out! Grazie!